Benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta, l'ospite della prima parte è il professore Maurizio Devanna che è tornato a trovarci e che ringrazio. Nella seconda parte avremo invece un incontro con Daniele Lucchetta per parlare di questa edizione del premio Lucchetta che si svolge in questi giorni. Prima di parlare dell'argomento che abbiamo concordato con il professor Devanna, volevo chiederle se crede il professor una curiosità, ma partendo dal fatto che al Politiama Rossetti ancora questa sera c'è lo spettacolo, l'interpretazione dei sogni di Stefano Massini dedicata appunto a Freud, perché Freud esercita sempre un interesse particolare anche nel mondo dello spettacolo? Perché magari è anche vero che ci sono degli autori cinematografici come per esempio Billy Wilder che amano prendere in giro la psicanalisi, probabilmente perché a lui Freud una volta rifiutò un'intervista quando era giovane, quindi forse se è legato, ma al di là di questo, perché questa figura esercita? Ha rappresentato una grande rivoluzione culturale, parlare di inconscio, parlare di tutta l'importanza dello sviluppo psicosessuale, che noi attraversiamo una fase orale, una fase anale, una fase fallica, una fase genitale, quindi la scoperta della sessualità già nel bambino, con poi una fase di latenza che corrisponde più o meno alle scuole elementari e una ripresa poi della sessualità importantissima dalla pubertà all'adolescenza in poi. pensi tutti ai miti greci che lui ha tirato fuori, il mito di Edipo, il mito di Elettra, Medea, lui quindi ha pescato molto da quella che è la nostra cultura greco e romana. Quindi anche pescando da quelle che sono le nostre radici culturali, come dire, emerse o non emerse, anche questo spiega questa attenzione che… E soprattutto l'importanza dell'inconscio, cioè tutte le nostre… pensi ai lapsus, agli atti mancati, pensi a tutti i meccanismi di difesa dell'io, la rimozione, la sublinazione, per cose che per noi adesso sono scontate, ma è stato lui che le ha sicuramente… Adesso che la psicanalisi come mezzo terapeutico ha sicuramente meno importanza, si ricorda gli anni 50 in Amica era di moda, guai se uno non andava in analisi, come no, come no. Oggi come oggi ci sono delle tecniche un po' cambiate, però come dice lei la cultura è rimasta molto significativa perché, ripeto, fa parte della nostra cultura occidentale. Allora, chiuso l'argomento, quantomeno per quel che riguarda la mia curiosità, parliamo di… lei ne ha parlato ieri con medici di base, con neurologi, eccetera, di questa, chiamiamola l'asse intestino-cervello. Sì, infatti il titolo era proprio l'asse intestino-cervello. Ah, è proprio il titolo. Ecco, per tutte le comunicazioni bidirezionali, cioè la direzione dall'intestino al cervello e dal cervello all'intestino, lei capisce che le comunicazioni che avvengono dal cervello all'intestino erano già ben note, si pensi quando uno ha paura, no? Si dice, ah, in cago, sì, o perlomeno si sa che uno deve andare a fare pipì, c'è una stimolazione sicuramente, quindi la stipsi è influenzata molto. Pensi ai parkinsoniani che hanno una stipsi che precede di anni di sorgenza delle alterazioni, i tremori e l'iridità muscolare, no? Ecco, ma in questa asse intestino-cervello c'è una terza componente che è fondamentale e che è la nostra flora batterica, quello che viene chiamato il microbioma o microbiota. Allora le faccio, anticipo subito una domanda che lei mi farebbe, che differenza c'è fra microbioma e microbiota? Che il microbioma comprende anche tutto il patrimonio genetico. E perché è importante? Perché pensi che loro hanno 150 volte un numero di geni rispetto ai nostri. Ho capito. È incredibile, per cui noi sui geni umani facciamo fatica, anche se esiste l'ingegneria genetica, ma sarebbe più facile intervenire probabilmente modificando le migliaia e migliaia di specie batteriche che albergano nel nostro intestino. Ma non è soltanto l'intestino. I microbi sono dappertutto, sono sul terreno, sono sulle piante, sono su tutti gli esseri viventi e nell'uomo sono albergati qualche cosa come un numero pari alle nostre cellule. Fino a pochi anni fa si diceva che addirittura era 10 volte superiore il numero delle nostre cellule. Quindi hanno un maggior numero di geni, di noi, e sono così tanto rappresentati. Allora lei capisce che non c'è specialità medica che non può oggi come oggi fare a meno di questa conoscenza dei microbi, dei microbioti, microbi, virus, funghi, le archee e così via. C'è una popolazione, voglio dire, calberga. Perché, come posso dire da un punto, qui è un po' anche la lingua italiana che non ci viene in soccorso, perché uno sente la parola microbo e pensa sempre a qualcosa di dannoso, a qualcosa di negativo, eccetera. Invece buona parte di questi microbi sono buoni, quindi abbiamo i bad guys e i good guys, i buoni ragazzi e i cattivi ragazzi. E se abbiamo un buon rapporto tra buoni e i cattivi, circa il 70-80% nell'intestino di buoni contro il 20% di cattivi, siamo in una situazione di eubiosi. Ci sta bene. Ci sta bene, un ottimo equilibrio sia fra di loro, ma loro anche nei nostri confronti, perché viviamo in simbiosi. Pensi, per esempio, che noi l'insalata la digeriamo solo grazie a loro. Non saremmo in grado di digerire l'insalata. Non solo, quindi la mangiano, perché sono per loro fibre, quindi sono dei prebiotici, sono delle sostanze che gli servono a loro, ma ci donano, pensi, il 10% di tutta la nostra energia del corpo è dovuta al microbiota intestinale. Quindi, voglio dire, noi dobbiamo anche, come posso dire, se noi ospitiamo i good guys e i bad guys e dobbiamo fare in modo che la loro convivenza sia pacifica, che tipo di comportamenti dobbiamo intraprendere? Beh, sicuramente la dieta, perché loro appunto sono quello che noi mangiamo. Pensi che già Ippocrate aveva detto, fa che il cibo sia la tua medicina e la tua medicina sia il cibo. Ma anche Maometto, non dimentichiamo, dice, che tutte le sorgenti delle malattie provengano dall'apparato gastroenterico. Quindi, no, sia Maometto che Ippocrate, 2500 anni fa Ippocrate, insomma non è poco. E ecco, allora, quindi l'influenza è a tre, cioè microbi, parete intestinale, dove abbiamo un secondo cervello, cervello enterico, cosiddetto, sono centinaia di migliaia di neuroni, esattamente uguali ai neuroni che abbiamo nel cervello. Quindi quando uno dice, tu ragioni con la pancia, intanto sommato non ha tutti i torti, è un ragionamento di pancia così più rapido, più impulsivo, se vogliamo, no? Sì, sì, sì. Però, allora, tenga conto che le pareti intestinali, che hanno dei villi, microvilli, sono molto articolate, se noi le potessimo stendere su un piano, l'intestino sarebbe pari come aria a piazza unità. Quello che però mi ha sempre sorpreso, come mai di fronte a questa enorme superficie, quindi è una superficie di una porta rispetto all'esterno, no? E' ricoperta da un unico strato di cellule, si può immaginare, un unico strato di cellule. E quindi facilmente, se si va ai disbiosi, i germi cattivi penetrano tra una cellula e l'altra, come una palizzata che si allarga e lì penetrano. Non per niente, il 70-80% di tutto il sistema immunitario è localizzato lì. Ho capito. Cioè noi già ci difendiamo, o siamo pronti a difenderci. E' compito, mi perdoni professore se interrompo, dei microbi cattivi come può farsi strada? Certo. Cioè è la loro natura, come direbbe... C'è un fenomeno che si chiama quorum sensing, per cui il singolo batterio emette una piccola molecola che va inserita in un altro batterio. Come dire, guarda che io ci sono, ah sì, ci sono anch'io. Ho capito. E si riuniscono, fanno la conta e decidono poi di attaccare. Ho capito. Attaccano e trovano, per fortuna, il sistema immunitario nostro, che immediatamente attua un sistema di difesa. E qual è il sistema di difesa? E' l'infiammazione. L'infiammazione che noi tendiamo sempre a vedere come è nociva. Certamente se è un'infiammazione molto acuta, come quella del Covid, chiaramente. Però in questo caso si chiama infiammazione di basso grado silente, nel senso che non dà manifestazioni cliniche. Ma questa infiammazione cronica di basso grado va a influire su tutto l'organismo. Ed ecco perché tutti gli organi risentono di una disbiosi intestinale, compreso il cervello. Il cervello è un organo, oltre ai neuroni c'ha la glia, sono delle cellule che servono per supporto e nutrimento dei neuroni. Ebbene la microglia sarebbero i nostri macrofagi, cioè i nostri globuli bianchi, che sono lì pronti per agire contro gli agenti cattivi, diciamo. Capito. E quindi si crea una cosiddetta neuroinfiammazione. E la neuroinfiammazione è alla base della depressione, dell'ansia, dell'autismo, dei disturbi depressivi, dei bipolari, della schizofrenia. Cioè non c'è campo della psichiatria, ma anche della neurologia, dall'Alzheimer al Parkinson, alla sclerosi multipla, che non risentano di questa disbiosi. Quindi noi possiamo cercare di influenzare il cervello cercando di mettere a posto questa disbiosi, tornare a una situazione di eubiosi. Lei mi chiedeva giustamente come si fa. Sicuramente la dieta deve essere una dieta corretta, l'attività fisica, è importantissima, perché si è vista che la sedentarietà provoca disbiosi. Il più possibile assenza di stress, perché lo stress produce, e questa fa parte di questa asse bidirezionale, l'asse ipotalamo-ipofisi-surrene, con produzione di cortisolo. Il cortisolo ci serve tantissimo, ci dà un sacco di energie, di capacità di affrontare i nostri problemi, ci dà quindi una grossa, almeno all'inizio dello stress, ci dà le energie sufficienti per combattere o fuggire, no? Di fronte a quello che doveva essere. Io vedo con la cora dell'occhio una vipera, no? Immediatamente, prima ancora che la mia corteccia capisca che è una vipera, la mia amigdala, dato che il centro della paura mi dice, attenzione, questo è pericoloso. Quindi qui devi subito decidere se combattere o fuggire. Sorrido un attimo, solo perché mi veniva in mente una gaff di Mike Buongiorno, piuttosto, quando fece una domanda nel corso di RischiaTutto, dice, come si fa a capire se si tratta di una vipera o se si tratta di una biscia, insomma, no? E dice, bisogna guardare la pupilla perché una ce l'ha, ha capito? Sta vicino. E lui dice, quindi, quando vedete, non sapete che cos'è, guardate la pupilla. Insomma, ti vinto un po'. Ma vado a chiedere anche questo, professore. Non credo di banalizzare, però, per esempio, parlando di queste infiammazioni che poi sarebbero anche delle sentinelle di un certo non star bene, eccetera, quando vengono, adesso non so esattamente il termine, però molto spesso si usa dire banalmente che quando uno è indisposto, non so, per esempio, gli vengono quelle, come si chiama, sulle arse, quello è una, come dire, è una esteriorizzazione di questa infiammazione a livello delle mucose. Dicevo che tutti gli specialisti dovrebbero occuparsi di questo perché abbiamo il microbiota cutaneo, che è importante, molto spesso adesso anche i dentisti vanno a vedere il microbiota orale perché da questo microbiota orale dipende, ad esempio, non solo la carie, ma anche la durata degli impianti. Ah, ho capito. Già sapevamo da anni che esiste la endocardite batterica, cioè un'infiammazione del cuore dovuta a un'alterazione dell'igiene orale, endocardite batterica, batteri del cavo orale che ti provocano una endocardite mortale, tra le altre. Ma adesso invece si va studiando quali sono i microbi che sono responsabili della durata degli impianti. Lei sa che gli impianti sono stati una grossa rivoluzione perché al posto della dentiera, il fatto di poter mettere un impianto, però passati gli anni si è visto che questi impianti non sono eterni, hanno una certa durata, ebbene la durata degli impianti deriva dal tipo di germi che alberga nella bocca. E quindi conosciuti prima si può valutare quanto dura l'impianto oppure, come posso dire, comportarsi di conseguenza? No, bisogna cercare di ristabilire l'igiene orale. Ah, ho capito. Ci sono dei batteri, ormai già ben studiati, già anche in commercio, ma non voglio fare reclamo, che servono per mantenere una buona igiene orale. Questo per dire un campo che è quello dei dentisti, ma non parliamo dei ginecologi per quanto riguarda la vagina. Noi pensi che il bambino nasce con un intestino sterile. E' diverso quindi se nasce per via vaginale, per via naturale, e allora becca tutti i batteri vaginali della mamma, a differenza del parto cesareo. Ho capito. E poi è diverso a seconda se l'allattamento è materno, e si prende tutti i germi della mamma, quelli buoni e quelli cattivi, oppure un allattamento di tipo artificiale. Questa cosa qui va avanti circa per tre anni. Dopo i primi tre anni, il nostro assetto intestinale, che il suo è diverso dal mio, eccetera, tende ad essere abbastanza costante. Abbiamo qualcosa come duemila specie batteriche. Però il problema è che noi non riuscivamo a vedere quale tipo di germo batterico. E' stata una grande rivoluzione genetica il fatto di poter sequenziare dentro le feci quelle che sono i germi buoni e cattivi. Ci sono degli laboratori specializzati che sono in grado, quindi quando uno dice faccio l'esame delle feci, detto così è una sciocchezza, perché in realtà si fa soltanto il sangue occulto, che è molto importante chiaramente, si guarda l'elicobacter pylori, che è responsabile dell'ulcera gastro-durinale, e poche altre cose, ma non si vede tutte le mille, duemila specie batteriche. Questi laboratori ti fanno una bella mappa di quello che è il tuo equilibrio o squilibrio batterico, e ti dicono guarda che ho trovato che tu hai altre, non so, la scighella, la clepsiella, le schericchiacoli, quella che è. Tu per queste cose, secondo i classici antibiogrammi, dovresti prendere questo, questo antibiotico, ma noi non ti diamo antibiotici, noi ti diamo prebiotici e probiotici che vanno a curare e combattere i germi cattivi. Questo è fondamentale perché noi abbiamo fatto un uso e abuso di antibiotici, va bene? Questo ha creato la cosiddetta antibiotico-resistenza. La mitridizzazione per certi aspetti, Nel senso che l'abitudine è che... Loro si sono evoluti, man mano che noi scopriamo antibiotico, loro chiaramente favorivano, secondo la legge di Darwin, la specie favorita, tendeva quindi a mantenersi attiva. Nel 2050 l'antibiotico-resistenza diventerà la prima causa di morte, perché noi non avremmo più difese. Non avremmo più difese. Allora dobbiamo cercare qualche cosa di alternativo. Ebbene, la terapia batterica, quindi lei ha parlato di batteri come l'origine del male, io le parlo di batteri come origine del bene. Batterio è l'altra parola che voglio dire noi associamo per convenzioni, a qualche cosa di assolutamente negativo, laddove invece... Però tenga conto anche dei termini. Quando lei parla di antibiotico, parla di antibiotico, parla di antibiotico, contro la vita. Sì, sì, sì. Perché lì, quando lei mette un antibiotico nel cavo intestinale, lei è come se facesse scoppiare la bomba atomica. Lei uccide buoni e cattivi. Uccide tutti. E quindi, poi appena dopo, bisogna ricostituire una flora batterica. Invece, quando si parla di probiotico, si parla di favore della vita. E quando si parla di prebiotico, si parla di fibre, che sono quelle che, tipo l'insalata, di cui si nutrono questi germi buoni. E quindi ci sono anche dei simbiotici, cioè già sono in commercio delle cose che mettono insieme il prebiotico e il probiotico. Sin vuol dire insieme. In questo caso parleremo di che cosa? Di medicina... No alternativa, perché? No. Si parla di una medicina integrata. Medicina integrata. Che tiene conto di questa popolazione. Noi non siamo quindi un'isola, ma siamo in contatto con tutti i sistemi della natura. Vedete che i danni che vengono provocati adesso a livello climatico, cioè noi siamo sensibilissimi alle modificazioni climatiche, quindi ambientali, inquinamento, la dieta, il cibo, tutto quello che vuole. Quindi noi dobbiamo essere in sintonia con la natura. E noi abbiamo dentro di noi, ripeto, un numero di batteri, guarda caso, che è lì da milioni di anni, molto prima che ci fosse l'uomo, no? la prima specie umana è stato un batterio. Pensi che un batterio noi ce l'abbiamo nelle nostre cellule e si chiama mitocondrio, forse avrò sentito parlare. Nella cellula c'è il nucleo, ma ci sono anche degli organoli che si chiamano mitocondri. Sono dei vecchi batteri che hanno trovato spazio lì dentro. Questo tipo di ricerca, insomma, da quando nasce? Circa una ventina di anni fa. Quindi è abbastanza recente. Molto recente. Però, perché me ne occupo io? Appunto, per tutto il riferimento che c'è per quanto riguarda il cervello, sia come malattie neurodegenerative, sia come malattie psichiche. Io, già anni fa, avevo sentito parlare di depressione come malattia infiammatoria, o mi guardavano male i miei colleghi. Invece, purtroppo, sappiamo che è questo. Se si ricorda, abbiamo parlato qualche volta fa anche della epigenetica, i microbi agiscono a livello epigenetico. Quindi, tutte le cose che mi piacciono, la neuroinfiammazione, tutte le cose stanno trovando una bella sistemazione. Quando noi parliamo, per esempio, anche di stress, La necessità di contenere, dominare, eccetera. C'è qualche, abbiamo noi stessi qualche strumento? Perché è facile dire tipo non stressarti. No, noi abbiamo la capacità di adattamento, che sarebbe una delle fonti più importanti della nostra intelligenza. Più siamo in grado di adattarci ai problemi situazionali, ambientali, di vita, più ti mostriamo intelligenza. Vediamo se l'intelligenza artificiale sarà così brava. La preoccupa l'intelligenza artificiale? ha fatto anche una breve conferenza sulla paura dell'intelligenza artificiale e molto è legata all'ignoranza che esiste su questo argomento. La paura dell'ignoto. Quando è stata diventata l'energia elettrica, i contadini non volevano che i fili elettrici passassero sui loro campi, no? Che poi forse non avevano tutti i torni perché esistono delle radiazioni elettromagnetiche, quindi dipende anche dalla grandezza del filo elettrico che passa, ma adesso non perdono. Ma comunque gran parte poi era legata all'ignoranza. E l'intelligenza artificiale può avere un ruolo in tutto ciò o è ancora tutto da vedere? L'intelligenza artificiale se noi la sappiamo, la teniamo sotto controllo, ci può servire per combattere i mali dell'uomo moderno e quindi ci può mettere a disposizione delle tecniche, dei metodi per combattere quello che è il cambiamento climatico per esempio. Quindi se noi lo usiamo come una protesi del nostro cervello, sì, capito? Com'è? Insomma, oggi è inutile sapere essere enciclopedici. No. Basta che ci rivolgiamo al computer e quello ci dice... Anche basta chiedere a Google e i Google dimmi quando. Ecco, però abbiamo stato attenti a chi ha in mano queste cose. Sì. e allora potremmo avere qualche problema sulla gestione, sul potere, su chi gestisce il potere che potrebbe influenzare, come hai visto anche le prossime campagne elettorali americane, potrebbe essere legate a un'influenza di media. E qui entrate voi. E qui entriamo in gioco. Mamma mia. Sì, c'è una responsabilità notevole, però insomma. è curioso però che nel giro di poche, direi quasi pochi mesi, un aumento esponenziale. Sì, ma anche, cioè fino a meno di un anno fa l'intelligenza artificiale era vista solo ed esclusivamente come qualche cosa di positivo. Certo. poi dopo di colpo il vento è mutato e la si vede anche come qualche cosa di negativo. Vediamo che Alexa ci ascolta mentre parliamo. I telefonini pensi che nei consigli di amministrazione i telefonini vengono messi sul tavolo e vengono chiusi ma addirittura viene tolta la batteria per cui voglio dire insomma quando io parlo in macchina mi ascolta dice Siri o la varia marca che siamo ci abbiamo verso la verso la chiusura il il futuro di ciò di cui abbiamo discusso dove va? Va verso va più verso farmaci o va più verso un atteggiamento questo è importantissimo perché noi perché adesso diamo tanta importanza a questo oltre che per l'antibiotico resistenza ma a parte quello perché la ricerca farmacologica si è molto fermata per esempio pensiamo a quella che è stata la rivoluzione col Prozac con gli antidepressivi ma siamo ormai passati quasi 50 anni dal Prozac per dire poi sono venuti fuori alcuni farmaci l'ultimo antidepressivo ha qualche cosa come 20 anni che parecchio 20 anni non c'è stato nulla di nuovo le benzodiazepine si sa che è vero che sono a prova di suicidio ma è anche vero che danno problemi di memoria oltre che di dipendenza quindi abbiamo bisogno di sostanze che non diano dipendenza e che non siano tossiche il probiotico comunque non dà effetti collaterali guarda a casa perché ce l'abbiamo noi in pratica sono sostanze naturali che possono servirci se noi andiamo in simbiosi se noi andiamo in simbiosi con l'intelligenza artificiale altrettanto si già lavora a livello di sicuramente adesso non abbiamo soltanto il genere la specie dei batteri ma abbiamo i ceppi sono dei ceppi che sono fondamentali per agire per esempio nella depressione prossima volta che ci vediamo di cosa parliamo continuiamo su questo argomento qua che è la medicina moderna e personalizzata grazie al professor Maurizio De Vanna per essere stato con noi buon lavoro adesso andiamo in pubblicità e poi l'intervista con Daniele Lucchetta seconda parte di questa puntata di Trieste in diretta per correttezza nei confronti degli spettatori dell'ospite vi avverto che la puntata è registrata siamo in compagnia di Daniele Lucchetta che è la presidente della fondazione Lucchetta Ota d'Angelo Rovatin siamo alla vigilia di un appuntamento no siamo alla vigilia di un anniversario molto importante molto triste 30 anni già 30 anni 30 anni sembra incredibile passati in un attimo ma penso che questo lo dicano un po' tutte le persone che arrivano alla mia età cioè la vita corre in una maniera impressionante e 30 anni sono tanti io ne abbiamo già parlato e possiamo farlo meno per quanto mi riguarda parlando di Marco perché le altre persone che rimasero vittime con lui non le conoscevo ne conoscevo Rovatin che purtroppo si è aggiunto a questo due mesi dopo due mesi dopo no è incredibile pensare quanto la come posso dire il ricordo di Marco sia ancora con tutti quanti noi ma io posso capirlo per quanto riguarda per esempio il pinguino io appartengo a quella generazione che di sabato correva a casa da scuola un po' prima del solito si arrabbiava se l'autobus partiva un pochettino più in ritardo perché se no si perdeva la puntata del pinguino però per esempio anche persone di età differenti e che forse magari il pinguino non lo vedevano con l'assiduità con cui lo vedevamo noi è rimasto il ricordo ma Marco sì io ho spesso avuto la sensazione che Marco sia stato vissuto come qualcosa di Trieste sì qualche cosa che è stato strappato a Trieste in realtà perché effettivamente era una persona a cui si voleva bene cioè aveva delle dimostrazioni di affetto continue dalle persone proprio anche quando andavamo in giro semplicemente per strada le persone lo fermavano avevano sempre un moto di simpatia verso di lui credo che sicuramente molto dipendesse anche dai suoi esordi qua a Telequattro perché bene o male sappiamo benissimo insomma quegli anni poi per me sono stati anni che ricordo con una leggerezza incredibile perché si scherzava si giocava non veniva neanche preso tutto come un lavoro vero da parte di Marco perché quella volta c'erano anche cose sperimentali non c'era la tele di oggi si era appena l'inizio quindi io ero alle medie ancora sì ma io certe volte guardo le puntate beh insomma qualche volta mi capita di riguardare le puntate del Pinguino e penso che veramente facevano una televisione che era all'avanguardia per quella volta quindi posso credere e capire perché a Trieste fosse diventata poi così popolare c'era la candid camera scherzi personaggi il signor Rossi sì e quello era un aspetto di Marco che sicuramente lo ha reso molto caro alle persone perché Marco era fondamentalmente molto ironico molto sapeva ridere prima di tutto su se stesso direi fondamentale e infatti e questo lo rendeva estremamente simpatico e poi era una buona persona cioè il seguito della sua vita lo dimostra insomma le scelte che ha fatto sicuramente io l'ho visto cambiare in quegli anni lui è diventato fra virgolette una persona seria crescendo è diventato papà cioè tante cose che ovviamente lo hanno cambiato e poi entrare in contatto con la guerra è stato dirompente per lui sicuramente gli ultimi due anni non aveva più la leggerezza che aveva in quegli anni là assolutamente era diventato cioè era entrato in contatto con la sofferenza con la violenza e stentava anche a capirla e a crederci e poi tra l'altro credo che quello che sta succedendo adesso è ancora tra Russia e Ucraina e in Medio Oriente come dire pone nuovamente determinati problemi all'attenzione dell'opinione pubblica però come dicevi tu è difficile spiegare anche quello che sta succedendo cioè da un lato non è difficile da un lato sembra comunque incomprensibile sì sembra lontano e sembra irreale perché sembra sembra veramente incredibile che possa succedere a pochi chilometri poi da noi tutto quanto anche quella volta era vicinissima la guerra però non la si realizzava io penso che proprio la città l'abbia realizzata nel momento in cui è successo a Mostar quello che è successo è stato il momento in cui è come se Trieste avesse ricevuto una sberla enorme ma non solo Trieste però perché la percezione della guerra era anche a livello nazionale molto diversa io ricordo benissimo la frustrazione di Marco che andava a fare le trasferte e poi mi telefonava dicendo per piacere controlla sei andato in onda perché magari c'era qualcosa di più importante che poteva essere anche una partita di calcio e quindi la guerra in Bosnia passava in secondo piano e la loro morte ha effettivamente risvegliato delle coscienze io penso a livello locale sicuramente in maniera dirompente l'idea della fondazione nacque immediatamente se non ricordo male nei giorni immediatamente successivi perché effettivamente noi avevamo saputo dell'esistenza di Slatko di questo bimbo di quattro anni che era rimasto sotto i loro corpi e quindi insomma è venuta una cosa spontanea è venuto così facciamo qualcosa per questo bimbo vediamo di cercare di completare quello che loro hanno cominciato forse in maniera inconsapevole proteggendolo con i loro corpi e quindi abbiamo cercato di muoverci abbiamo costituito un comitato proprio per cominciare a chiedere all'autorità bosnia che di far uscire Slatko e la sua famiglia da Mostar e ci siamo riusciti in luglio e da lì non ci siamo più fermati ma anche perché c'è stata una spinta delle persone che ci hanno chiesto questo è stata incredibile la partecipazione di quei mesi io ho un ricordo di quei mesi a tratti molto confuso perché è stato tutto estremamente concitato traumatizzante poi e a tratti invece ho dei flash dei ricordi di persone che anche io non conoscevo che però mi sono state vicino in qualche modo mi hanno abbracciato mi hanno detto una parola mi hanno incoraggiato veramente sono cose che non si dimenticano l'idea poi perché un conto è la fondazione un conto è il premio ah sì assolutamente sono due cose staccate fra l'altro ci tengo a dire per l'ennesima volta ma lo voglio sottolineare che non un euro della fondazione va a finanziare il premio perché non sarebbe veramente etico il premio è finanziato dalla regione e sì è stato istituito dieci anni dopo la loro morte nel 2004 proprio per cercare di ricordarli in altro modo e per valorizzare il buon giornalismo di cui si sente un gran bisogno e comunque anche per dare spazio ai freelance cioè alle persone che magari non hanno occasione perché tra l'altro è vero anche che ogni edizione del premio porta con sé anche una riflessione sulla nostra stessa professione anche assolutamente sì questo è un dato anche che accompagna ogni edizione sì io devo dire che si incontrano persone veramente straordinarie giornalisti che magari restano nell'ombra perché poi in televisione siamo abituati a vedere sempre gli stessi e questo per me è penalizzante tantissimo ci sono tantissime persone che lavorano in un magari senza neanche riconoscimento o sicurezza come invece bisognerebbe avere in determinate situazioni guadagnano fra l'altro pochissimo e però è giusto valorizzarle è giusto dargli voce e questo è il motivo anche per cui in questi ultimi anni abbiamo cercato così di valorizzare il premio organizzando proprio dibattiti panel si chiamano oggi sugli argomenti dei temi che sono stati proposti sempre legati all'infanzia fra l'altro che sono stati proposti dai vincitori e dai finalisti organizzando dei dibattiti proprio in presenza perché è importante è importante sono testimonianze straordinarie che arrivano poi non dimentichiamo anche e chiedo scusa sembrerebbe quasi un'entrata in come dire in contropiede mi pare questo è il mio non vedo perché delle volte mi arrampico su questi termini che non conosco ma insomma credo di conoscere voglio dire i giornalisti poi gli inviati di guerra ma in certi casi nemmeno solo gli inviati di guerra continuano anche a morire sul posto e anche poi magari quando anche gli inviati diciamo di un certo tipo di cronaca quindi voglio dire da quel punto di vista poco è cambiato rispetto a 30 anni io credo che sia peggiorato perché molte volte i giornalisti sono diventati dei bersagli per scuotere l'opinione pubblica qualche volta vengono anche rapiti sequestrati per esercitare delle pressioni no io credo che la scritta press non protegga proprio nessuno no 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 ci vuole molta preparazione molta prudenza bisogna assolutamente fare dei corsi preparare la gente che va a fare questo e per questo il 28 gennaio faremo anche un dibattito organizzato proprio dall'USIGRAI con la partecipazione di giornalisti sul ruolo degli inviati di guerra e sulla loro sicurezza c'è sembrato al miele c'è sembrato un modo più concreto di ricordare Marco Dario e Sascha veramente allora ci sono anche i vincitori del premio Rotta Balcanica del premio Rotta Balcanica tra l'altro anche questo è bello da sottolineare il premio Rotta Balcanica nasce da un'idea del collega Ludovico Fontana che ha lavorato al RAI di Trieste fino a credo cosa sarà 4-5 anni fa forse anche meno forse anche meno e l'ha suggerito lui questa idea l'ha suggerita la proposta e l'ha portata avanti aprendo una sottoscrizione fra i colleghi è stato veramente molto determinato prima di andare via ci ha chiesto di aprire una sezione del premio Luchetta dedicato proprio alla Rotta Balcanica noi abbiamo accolto con grandissimo piacere quest'idea perché al di là del fatto che è un arricchimento per il premio in se stesso ma poi è un problema che è giusto che venga posto all'attenzione delle persone soprattutto delle persone poi di questa di questa terra perché noi la viviamo veramente sulla nostra pelle la Rotta Balcanica basta andare in Piazza Libertà per capire cos'è in Piazza Libertà si dovrebbe capire anche altro ma insomma come diceva il barman di Irma La Dolce questa è un'altra storia eh sì e possiamo dire i nomi dei finalisti no? sì allora per la sezione stampa ha vinto Linda Caglioni di Altra Economia che ha raccolto la testimonianza di un padre marocchino che ha perso il figlio lungo la Rotta Balcanica nel maggio del 2020 e anche qui delle volte come dire si pensa chissà perché che la Rotta Balcanica sia sicura no? cioè non so perché però si dice invece succedono queste cose anche anche nella Rotta Balcanica non solo quando si arriva con quelli che noi chiamiamo gommoni ma sono cose attraversare quei territori è stata per anni poi quando veramente un terno all'otto no? e poi invece Giulia Bosetti e Deleonora Tundo di presa diretta Rai 3 hanno vinto per quanto riguarda la sezione immagini e hanno realizzato un viaggio in chiesta al confine tra Bosnia e Croazia per vedere come funzionano le tecnologie per il controllo delle frontiere finanziate dall'Unione Europea di questa sezione mi fa piacere sottolineare soltanto che tra i finalisti c'era ancora in collaborazione con Linda Caglioni anche Simone Modugno che ha realizzato un servizio per Rai News 24 e Simone Modugno è un ragazzo giovanissimo penso che abbia meno di 30 anni che ha lavorato anche a Trieste noi lo vedevamo molto spesso nelle conferenze stampa eccetera che da qualche anno a questa parte credo sia mi pare per l'Ansa o non so per chi no forse un freelance anche lui eccetera insomma mi fa molto mi fa molto piacere io gli invidio anche i capelli perché ne ha tantissimi invece qua ma d'altra parte l'età conta è l'età appunto lui ne ha fatto tutto il tempo di perderli infatti però sono molto contento perché insomma è bello anche riconoscere questo come dicevi tu colleghi che magari non appaiono lavorano in come dire andare a cercarli sì devo dire che noi abbiamo la soddisfazione nel premio di ricevere lavori anche da giornalisti invece molto quotati anche esteri perché effettivamente è diventato un premio internazionale e quindi possiamo veramente valutare insomma non io perché lo fa la giuria questo è ovvio però si possono valutare lavori veramente di livelli diversi è chiaro che chi parte con una televisione alle spalle o un grande giornale è avvantaggiato e di questo bisogna anche tener conto poi c'è anche un altro problema ma quello è un problema semmai da discutere con con chi si occupa di giornali eccetera è anche vero che la grande inchiesta giornalistica quella di carta stampata per tutta una serie di ragioni non esiste non esiste più non ci sono più i grandi reportage che non vengono sta cambiando un po' tutta l'informazione il mondo dell'informazione effettivamente però anche per questo è molto difficile destreggiarsi e quindi io credo che uno dei valori del premio sia anche quello cioè portare proprio a parlare la gente con le persone che sono direttamente interessate che c'è la possibilità di incontrare queste persone di ascoltarle dal vivo e di fare delle domande quindi effettivamente è un valore aggiunto è un'attività la vostra che appunto riconosce anche come sta cambiando il nostro il nostro mestiere insomma ed è un mestiere che cambia diciamo sotto gli occhi di tutti io probabilmente non mi riconoscerei dieci anni fa per certe figuriamoci trenta o quaranta quando no ho incominciato nel novembre tu no adesso un po' quaranta è la maturità insomma andiamoci piano sì sì ma è cambiato il mondo i cellulari sì io mi ricordo la prima telefonata di Marco con un cellulare che mi chiamava dall'autostrada guidando fra l'altro indovina dove sono e ti chiamo dove? in macchina oh madonna e infatti ha perso lo svincolo è andato non so fin dove è arrivato è arrivato a casa un sacco in ritardo perché sarà stato un telefono pesantissimo quelle cose enormi infatti però è cambiato il mondo è cambiato il mondo e anche lì bisogna che ci sia quella più tanto la professionalità che garantisca che perché insomma non è non è detto che basta avere un cellulare per essere in grado di fare un reportage eccetera anzi quello è il pericolo quello è il pericolo perché lo fanno tutti perché perché lo fanno tutti e infatti quindi come si sono diventati tutti i grandi fotografi no? in realtà sappiamo io neanche col cellulare riesco a fare belle fotografie invece poi no mi stavo anche dimenticando perché c'è anche il premio fondazione che viene consegnato sempre in questi noi abbiamo due giornate no? dedicheremo a questo avvenimento il 27 e il 28 gennaio il 28 sarà dedicato più al ricordo e a questo dibattito sugli inviati no? e trasmetteremo anche comunque spezzoni di un filmato che è stato realizzato dalla Sederai regionale qua di Trieste e sui 30 anni da Mostar e quindi avremo dei dibattiti e altre cose invece il 27 è dedicato tutto alla rotta balcanica quindi ci saranno e non solo avremo anche l'intervento dell'associazione che tutela i minori non accompagnati no? e trasmetteremo quindi anche sia il film di Andrea Segre che e poi la persona che verrà premiata col premio della fondazione Lucchetta Trieste Bella di Notte e quindi insomma verrà premiato quel giorno e poi proietteremo anche un film The Mind Game diciamo che è sabato pomeriggio a partire dalle 16 e anche domenica sempre alle 16 fatto salvo che magari gli orari potrebbero cambiare perché no no le 16 rimane e sempre al ci sono dei luoghi diciamola mettiamola così che sono anche casa e della fondazione e del premio no? perché la fondazione ha la casa sua in non mi ricordo in via Valussi però per esempio il politiamo Rossetti è stato per un certo momento il Miela e anche il luogo se non mi sbaglio anche ma questo vado veramente a memoria anche l'atrio del palazzo della regione quindi voglio dire è proprio è qualche cosa di di cui la città va fiera insomma no anche ma sì io questo lo percepisco insomma a me sembra che le persone ci vogliano bene sinceramente siamo sul territorio da tanti anni da tanti anni si fanno anche tante cose nel sociale questo sicuramente ci ha fatto entrare in contatto con moltissime persone moltissime durante il covid poi c'è stata una richiesta di aiuto veramente tanto forte ci sono state persone che proprio venivano da noi per avere un po' di spesa per vestirsi perché poi dopo una realtà come la vostra deve anche essere in grado di modificarsi in corso d'opera immagino assolutamente assolutamente infatti diciamo che la fondazione è in divenire non è che si può fermare cambia un po' con quello che è il tempo e l'esigenza del tempo io penso sempre che deve stare dove c'è bisogno di lei in assoluto la fondazione del premio sono due cose separate però è anche vero e lo abbiamo appena detto ma volevo sottolineare un po' anche questo è anche vero che entrambi sottolineano i cambiamenti perché nel corso di questi anni c'è stato un cambiamento per quanto riguarda il mondo del giornalismo ormai insomma abbiamo detto ma anche per quanto riguarda il mondo del volontariato il mondo di chi si mette in discussione per aiutare la gente in alcuni casi specialmente per quanto riguarda un certo tipo di volontariato ciò ha comportato anche un carico burocratico che forse era impensabile qualche anno fa perché questo è un paese dove ogni giorno si dice faremo in modo che la burocrazia scompaia basta andare in una farmacia e rendersi conto di che cosa significa la burocrazia perché devono far passare il codice a barre tre o quattro volte è una roba che io non riesco veramente a venirne fuori da questo punto di vista il lavoro della fondazione come è stato in questi in questi trent'anni beh nel mondo col mondo del volontariato dici beh noi abbiamo avuto anche lì una grande risposta da parte delle persone devo dire che certe cose non saremmo mai riuscite a farle senza i volontari sia l'assistenza dei bambini e posso solo pensare agli accompagnatori quanto ci hanno dato del loro tempo del loro spazio no portando su e giù questi bambini anche per l'Italia anche il centro di raccolta è uno dei posti dove si concentrano moltissimi volontari non saremmo assolutamente in grado di gestirlo altrimenti e quindi io devo dire che sì dal punto di vista burocratico c'è sempre tanto da fare abbiamo un ufficio che in effetti lavora anche a tempo pieno a pieno ritmo sì io li sento anche moltissimo brontolare su quelli che sono i barri cioè il terzo settore non è aiutato ecco in questo senso se ti riferivi alla burocrazia tutto il resto bisogna anche stare attenti a fare i passi giusti perché poi è molto facile essere additati no volevo ci abbiamo verso la conclusione mi interessava chiedere anche a te una cosa cioè la città è una città e dal resto è venuto fuori però chiudiamo tornando a parlare la città è una città molto strana perché è una città che si propone in maniera burbera in maniera piuttosto scorbutica anche fredda eccetera poi se la conosci un pochettino meglio se frequenti un pochettino meglio le persone eccetera viene fuori che il triestino è una persona molto generosa non lo fa sapere in giro però anche nei momenti difficili aiuta è difficile è una corazza la nostra probabilmente difficile da 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 scalfire ce la siamo costruita negli anni probabilmente per tutta una serie di ragioni però giova a sottolineare alla fine alla fine questo si è vicini alle associazioni che 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 aiutano alcuni anche mi dicono basta aiutare poi dopo scegli tu chi vuoi aiutare piuttosto che però è una città che da questo punto di vista è generosa non lo dice non lo non lo racconta si non ostenta non ostenta perché poi è una città che effettivamente è chiusa non è facile entrare no non è facile non è facile io sono io sono meridionale devo dire che sono arrivata qua che ero piccolina sono cresciuta qui quindi effettivamente ormai il mio cuore sta qua in buona parte è un pezzo però è rimasto giù io ho fatto una certa fatica per certi aspetti perché continuando a frequentare il sud Italia e perché ho mantenuto un legame fortissimo anche con la Sicilia e vedevo la differenza sentivo la differenza tangibile proprio giù c'è un modo diverso di partecipare qui le persone sembrano veramente molto chiuse molto indifferenti poi in realtà sulle cose che riguardano la città proprio ecco la fondazione ne è un esempio la figura di Marco è un esempio cioè come dicevo prima qualcosa della città allora i triestini veramente sanno dare il meglio di sé e lo fanno con discrezione cosa che per esempio al sud non c'è onestamente c'è altro ma non c'è la discrezione chissà che non sia anche giusto farlo così insomma continuare a farlo in questo modo ma penso che bisogna accettare il pro e il contro infatti penso che tutte e due le realtà siano io sono vissuta un po' spaccata in questo senso sentendomi un po' mai completamente a casa da nessuna delle due parti però sempre a casa da tutte e due le parti allo stesso tempo allora io ringrazio Daniele Lucchetta per essere stata con noi buon lavoro ricordatevi i due appuntamenti del 27 e del 28 gennaio ma insomma da qui a quelle date continueremo probabilmente a ricordarvi sì è da dire che l'ingresso è libero ovviamente chiunque può venire io spero di vedere tante persone grazie ancora buon lavoro grazie a voi noi ci vediamo con Trieste in diretta domani grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti